c'è un vecchio bairan pastore in questo edificio in questo edificio non mi ricordo di altri mi ricordo di amici mercantini mi ricordo di amici vabbè è occupato aspettiamo con calma tanto l'ascensore non si muove del quale è qui è arrivato è arrivato guarda è cazzo credo sia un film no 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 non serve non serve esci è un'ottima wow Fiam original elevator 4-0-0-4-4-3-27-61 wow wow questo è davvero credo built dopo la seconda guerra cosa prima cosa un'ottima è la vedro è a amici vedo vedo a la vedo vedo wow so big just a wonderful floider yeah it's epic Sergei's Mai in time Vai di nuovo Aspetta Ecco qua Ok Ok Rampastore Sa-ni-2-7-4-2 A cosa chiamata Fiam Questa è completamente riportata da Ram To the top of the building No info about persons on kilograms I think 4 persons or 325 kilograms Wow, very shaky Another building Rampastore 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 Ci perso non c'è né 50 kg. Credo che si è riportato nel 90 di Salavedro. Sì. 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 Un altro edificio qui. Un altro edificio qui. Un altro edificio. Sì. Un pastore. Che pelle! Che pelle! Che pelle! Wow! Non vuole! 400440 2644 320 kg Upgraded by Ram I think the only thing of this operator that is original is the cab Like the model One is epic Ah, an epic run into this one Epic ride Gimgb3 In the first mode This is an elevator I don't remember how many videos I have filmed in this park In via Luigi Mercantini Oh Oh Really fashionable style building un altro building come la moglie ha detto big level 2 6KB no going to the left pretty mature in this building no elevators here